signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite al modena play 2023 questo per me è stato il primo anno ai modena io sono un vecchio quindi per me modena è ancora una delle fiere nuove però quest'anno mi hanno convinto ad andarci ed effettivamente è stata una bellissima esperienza mi sono perso un sacco di cose gli anni che non ci sono andato e come sempre quando vado a una fiera vi porterò con me in un viaggio virtuale per farvi vedere cosa c'era e cosa ho visto e far rosicare quelli che non ci sono andati tra l'altro viaggio ricco di eventi perché a modena non ci sono andato solo come turista ma ero lì per tenere un evento insieme a mauro longo in cui ci sono state rivelazioni importanti ma di questo parleremo a tempo debito per chi non è mai stato alla fiera il modena play è una dei raduni per quanto riguarda l'ambiente dell'intrattenimento intelligente dei giochi per adulti come volete chiamarli più grossa d'italia in pratica qualunque cosa vi interessi giochi di ruolo wargame miniature qua dentro la trovate e se davvero dovessi fare un video in cui vi faccio vedere tutto quello che ho visto quel video dovrebbe dieci ore quindi non ne abbiate a male ma ho messo insieme tutto quello che ho girato e poi questo video ve lo ripropongo come un'unica narrativa in cui ho inserito soltanto gli eventi più salienti e dato che vi conosco e so che cosa siete interessati iniziamo il nostro viaggio andando subito al padiglione a cioè quello dedicato in larga parte al gioco di ruolo il detto vuole che se qualcosa esiste ne esiste un gioco di ruolo a riguardo e se quel gioco di ruolo esiste e qui dentro che lo troverete esplorando il padiglione mi sono imbattuto anche in un raro esemplare di pelliccioli old school nel suo ambiente naturale intento a massacrare un gruppo di ignari giocatori meglio non disturbarlo potrebbe chiederci di resistere un veleno di tipo q o qualcosa del genere e facciamo una prima sosta allo stand della terra dei giochi dove il buon con leoni stava tenendo una dimostrazione di streben per far conoscere l'osr ai ragazzi più giovani ma che in realtà ci ha accolto con una sorpresa con mano e con leoni che presenta dei giochi strani anche fin troppo strani hai scritto il regolamento sulla carta igienica non l'ho scritto io no non l'ho scritto io però sono invidioso di chi ha scritto non è una battuta è veramente un wargame scritto sulla carta igienica e io voglio ringraziare i ragazzi di putrid game che me ne hanno dato una copia lo metterò vicino a warhammer i regolamenti hanno lo stesso spessore nell'ultima edizione loro erano lì per fare una dimostrazione rappresentazione del lancio di blades e quando sono passato non ho potuto resistere a vedere cosa stavano facendo ma oramai si è fatta una certa è un incontro con mauro quindi dobbiamo abbandonare il padiglione e superare il ghostbuster per raggiungere la taverna dove terremo il meet and beer la parte difficile per me qui è stata superare il padiglione b senza lasciarmi distrarre dall'area dedicata alle miniature in cui potete vedere come sarebbe il mondo se la gente seguisse i video di modellismo del master cave non ammetto né smentisco di esserci tornato dopo aver passato due ore davanti a ogni singolo espositore prima di uscire dobbiamo perdere qualche minuto a risolvere una crisi internazionale senza grande successo immagino stessero combattendo per decidere chi doveva mettere a posto il tabellone a fine evento e finalmente usciamo nell'idilliaca giornata che ha caratterizzato i primi due giorni dell'edizione di quest'anno ma noi non ci faremo scoraggiare dal tempo inclemente e qui finalmente arriviamo al meet and beer che tra pioggia freddo un sacco di gente accancata nella birreria perché non si poteva stare fuori perché pioveva molta gente che voleva partecipare o non è proprio riuscita a trovare il posto o quando è arrivata fisicamente non poteva starci mi dispiace ragazzi è andata male voglio comunque ringraziare quella dozzina di persone che sono rimaste schiacciate al muro o sedute insieme a noi al tavolo lo stesso per chi non l'avesse trovato nel caso noi eravamo qui dato però che mi dispiace per tutti quelli che volevano partecipare non ci sono riusciti ho tirato fuori Mauro che era ancora in coma per il viaggio e facciamo un mini riassunto di tutto quello che abbiamo detto direttamente qui quindi ci teniamo il nostro meet and beer indifferita per voi del canale e qua c'è Mauro che sono riuscito a recuperare eccomi sono tornato anch'io da modena dopo questi questi tre giorni di devastazione di cataclisma totale io adesso gli sto facendo fare tutto il percorso che ho fatto io così non sono l'unico a soffrire mi porto dietro l'intera community nei miei viaggi ma meet and beer la maggior parte della gente che voleva venire non c'è riuscita perché eravamo nell'angolino sotto la pioggia però noi abbiamo un annuncio da dare con vari disagi tra l'altro della parte dell'organizzazione così ma glielo perdoniamo perché con quello che hanno fatto è già tanto però vuoi essere tu ad avere l'onore di dare il grande annuncio allora come grazie caro caro master cae come abbiamo detto ai a quella decina di persone presenti alla fine qualcuno c'era diciamo e abbiamo in mente di fare è questa cosa naturalmente chi è più sgamato se ne sarà un po accorto negli ultimi mesi abbiamo in mente di fare una cosa insieme e ovvero il un manuale chiamiamolo così un piccolo breviario che mette insieme la nostra esperienza di grande masteratore ed esperto delle dinamiche di tavolo e autore per lo meno di lunga data di giochi di ruolo un manuale che parla appunto di realizzare per realizzare che serve a realizzare dare dei consigli per ideare progettare scrivere il proprio gioco di ruolo quindi a tutti quelli che sono interessati a fare un po il il salto della guaglia noi diciamo così senza senza metterci il cappello accademico in testa proporremo la nostra esperienza le nostre idee le nostre dritte le cose che abbiamo capito che non si devono fare mai le cose che suggeriamo di fare e così via sì non è che siamo tanto a dirvi di fare le cose a fare per fare le cose bene più che altro vi spieghiamo cosa facciamo noi così lo vedete fate il contrario e dovrebbe andarvi bene tutte le cose che abbiamo fatto male sì in questi anni perlomeno le scriviamo lì così uno parte che già le usiamo la nostra esperienza come cattivi esempi e la mettiamo a disposizione del pubblico esatto il manuale verrà grosso modo sarà più o meno come questo che vedete qui che è il primo della linea diciamo che di cui mi sono occupato io qualche anno fa scrivi la tua avventura questo che vedete è dedicato ai libro game alle storie a vivi quello che facciamo insieme a roberto che faremo insieme a roberto che stiamo già completando in realtà praticamente finito mica ci riduciamo all'ultimo noi esatto quello lì sarà dedicato a creare il proprio gioco di ruolo ma anche le avventure se vogliamo no abbiamo abbiamo pensato di farlo un po a tutto tonto quindi non soltanto il regolamento ma le quest se tutto va bene e dovessero poi partendo dalle regole per arrivare poi world building cast building e poi consigli in ambito generale su cosa fare cosa non fare l'ha pensato sia per effettivamente chi lo vuol fare in ambito professionale vero e proprio e qua c'è mauro ed esperto ma anche per semplicemente chi vuole migliorarsi come master perché poi molte cose sono parallele esatto va benissimo anche per uno che si vuole preparare la sessione un po prima la quest il dungeon il proprio mondo di riferimento noi diamo delle dritte che possono servire anche a chi non è che vuole pubblicare sui grandi circuiti internazionali ma semplicemente si vuole fare le proprie cose per sé per divertirsi e quindi ci sono anche un sacco di consigli su su questo tipo di cose qui mettiamola così però ovviamente come dicevo il libro è già finito lo teniamo lì perché deve un attimo guarda proprio sapremo per uscire lo tiriamo fuori dalla botte per lucca il prossimo lucca che viene quindi ne parleremo poi più avanti ma sappiate che adesso finiamo in modena ma poi per il prossimo lucca ci sarà un altro evento avremo tempo di discutere esatto 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 in teoria in teoria ce la facciamo per lucca cosa potrebbe andare storto cosa potrebbe mai andare storto va bene grazie mauro torna pure nel tuo coma post cosa io devo proseguire col mio viaggio adesso ciao bene adesso al di là di quei dodici fortunati che erano seduti e degli altri cinque o sei di voi che ho incontrato personalmente a cui l'ho potuto dire a voce tutti sapete la grande notizia il libro ma di questo ne parleremo molto più avanti ma per quanto riguarda il nostro tour virtuale oramai si è fatto tardi quindi dobbiamo abbandonare la fiera e ovviamente andare a farci una birra insieme al master etilico che poi ha partecipato a nome dell'intero canale a una delle più antiche tradizioni dei modena play la statosta questo è qualcosa di più interessante per gli appassionati giochi da tavolo ma fa parte della tradizione dei modena play ed è una vera e propria asta dove vengono battuti giochi da tavolo che vengono poi dati al miglior offerente un sacco di consonanti regolamento in italiano staffato a colori e quindi abbiamo mandato spese base l'asta un euro signore regalato ma nel cielo uno due tre quattro euro cinque sei da cinque a sei e più che altro come avete potuto vedere lo stile istrionico dei battitori rende l'asta un vero e proprio spettacolo estemporaneo ed è questo che la fa apprezzare moltissimo al di là del fatto che si possono recuperare giochi a prezzi anche abbastanza stracciati per quelli di voi che sono interessati ai giochi da tavolo ma è un nuovo giorno in fiera e noi torniamo pronti svegli e scattanti perché abbiamo ancora qualcosa di importante da fare all'ingresso abbiamo inaspettato episodio crossover con il capitano andrei di broadman or games dai ragazzi stai già andando? sì grande ciao ragazzi sono il capitano di broadman or games e come sempre nerd power alla prossima e adesso dobbiamo ritornare nel padiglione ama facendo molta attenzione perché tra l'erba alta è spuntato un helios pu in versione furri perché se esiste ne esiste una versione furri fortunatamente siamo riusciti a fuggire prima che ci veda e adesso dobbiamo andare allo stand dei giochi indipendenti perché abbiamo un appuntamento con lucerto la rossa che quelli di voi che sono sul gruppo telegram del canale già conoscono e sanno che era lì per presentare un gioco e in realtà qui troviamo l'intero staff della fabula crew studio che sta presentando proprio la beta di armadia ho anche partecipato personalmente al playtest dimostrando la mia leggendaria sfiga coi dadi quando sono seduto alla parte sbagliata dello schermo del master fortunatamente gli altri giocatori erano competenti in quello che stavamo facendo quindi la cosa non si è risolta in un disastro prima di andare via un altro bagno di folla per raggiungere il padiglione di quello dedicato ai giochi da tavolo dove tra l'altro sono riuscito a recuperare all'outlet uno dei pochi manuali di cyberpunk 2020 che ancora mi mancava perché non è che puoi andare a una fiera senza buttare soldi in qualche manuale che poi non userai mai e diciamo che con questo concludiamo l'excursus ai modena play 2023 in realtà io vi ho ricostruito il tutto come se fosse stata un unico viaggio i filmati che avete visto sono stati fatti nell'arco di tre giorni pioggia permettendo folla permettendo sono dovuto tornare nei posti un paio di volte per avere alcuni filmati comunque ho preferito darveli seguendo un'unica narrativa in modo a rendere il discorso più facile tra l'altro per me è stata un'esperienza estremamente fantastica perché è una delle poche occasioni che ho io per vedere voi sì perché voi magari vedete me ogni settimana però io da qua vedo solo il mio riflesso nella lente della telecamera quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono passati a salutarmi che mi hanno stretto la mano in giro tutti quelli che mi hanno ospitato nel loro stand quando ero troppo stanco per reggermi in piedi siete i veri eroi dei modena e mi dispiace per tutti quelli che ho scoperto dopo che erano presenti e che c'era talmente tanta gente talmente tanta roba da fare che probabilmente siamo anche passati uno vicino all'altro e non siamo riusciti a incontrarci sarà per la prossima volta anche perché il prossimo appuntamento se tutto va bene è quello dei lucca comunque per questo video è tutto io adesso torno a collassare sul letto per riprendermi da tre giorni di fiera e più che altro sei ore all'andata e sei ore al ritorno di treno tra cui ho avuto anche vari incidenti quelli del gruppo di telegram hanno seguito tutte le mie peripezie in diretta e non ho voglia di ripeterle adesso dalla settimana prossima riprendo nei video regali del canale torneremo a parlare di ambientazione e come informarsi a riguardo per il resto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete lo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del server di disco del gruppo di telegram in cui metto io i video manualmente e dove avvengono tutte le comunicazioni interne della community il gruppo telegram è stato fondamentale per trovarsi in modena e anche per discutere di quello che stava succedendo in descrizione trovate anche i link a tutti gli stand a tutti i giochi di cui vi ho parlato se siete interessati ad approfondire io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao